E' il momento di Shailiz Jones al corpo libero. Probabilmente doveva fare tre giri in accosciata, ne ha fatti due, è rimasta un po' arretrata. Rondata, flick, Zuccar ha avvitato, molto bello, bene eseguito. Rincorsa, rondata, flick, doppio teso, bello, bene eseguito. Anche molto espressiva. Molto espressiva. Anche la musica si presta poi all'applauso del pubblico. Salto avanti, raccolto, smezzato, ronata, flick, doppio raccolto, tenuto molto bene. Grande dinamismo espresso dalla Jones. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.